se anche voi come me siete amanti del polpettone in tutte le sue varianti non potete perdervi questa ricetta oggi prepariamo insieme il polpettone di milan pane con un goloso ripieno di fontina iniziamo il polpettone di fontina Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se volete sostituire la fontina potete utilizzare il provola oscamorta o qualsiasi formaggio o pasta dura, mentre il parmigiano può essere sostituito dalla stessa quantità di pecorino. Conservate il popettone alla melanzana e il frigorifero per un massimo di 3 giorni, oppure congelato l'intero o a fette. Ottimo da gustare piepido o appena sfornato, accompagnato da insalata fresca e pomodorini.